torniamo a parlare di calcio un attimo chiudo la porta allora siamo nell'intervallo di milan bologna il milan vince 1 a 0 ma non è di questo voglio parlare il primo attaccante è arrivato speriamo non sia l'unico perché altrimenti sarebbe una mezza delusione ok torna alvaro morata ok direte voi se viene gioco se dovesse venire gioco direi che abbiamo fatto un buon mercato anche se ci manca il laterale sinistro se dovesse venire solo morata e non lo so non lo so non mi soddisferebbe che anche sta cosa però il mercato ancora in divenire dicono sia un uscita sia in uscita douglas costa direzione wolverhampton in inghilterra per un corrispettivo di 35 milioni 35 milioni un buon laterale si può anche prendere alla juve ieri mi è piaciuta morata da noi ha fatto bene soprattutto il primo anno è un buon attaccante affiancato a dibala e ronaldo è un attaccante direi che può andar bene ma non è il reparto non è ancora completo morata nelle ultime stagioni ha un po è andato diciamo al di sotto di quel che ci si aspettava diciamo che al momento il meglio nella sua carriera l'ha dato nella sua prima esperienza la juve l'ha dato lui ha sempre considerato la juve casa sua quindi penso che dovrebbe rendere anche se nel secondo soprattutto nel secondo anno ha peccato un po di continuità ma era più giovane lui poi ha una nazionale da riconquistare in proiezione europeo e mondiale ha il gradimento come ho già detto della destinazione juventus vediamo vediamo anche perché le minchiate che si sentono su in che si leggono su interne sono tante tipo un addio anticipato di cristiano ronaldo io mi aspetto un grande colpo se non ora magari con gico magari a gennaio gico non so gico gico non so sinceramente o si chiude tutti noi entro mercoledì giovedì perché poi la prossima roma juventus roma juventus e poi c'è il napoli quindi almeno un attaccante ce l'abbiamo per domenica ma se gico deve essere non penso venga prima di roma juventus non credo proprio che venga prima di roma juventus boh 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 io oggi ho scritto su facebook e se fosse i cardi la soluzione a parte morata se fosse i cardi la soluzione a me farebbe un grosso piacere anche se morata i cardi sembra un po troppo simili è uno dei due di troppo però se la juve dovesse rinunciare a gico e pigliare i cardi a me a me piacerebbe come soluzione anche in anche se come età morata è 92 i cardi e 93 bene o male siamo lì quindi se alla fine dovesse essere gico e i cardi a quanto pare su ares dovesse andare all'atletico l'atletico che ha guardate che che casino atletico che anche da piazzare diego costa e se dovesse essere proprio diego costa guardate che intrecci guardate che intrecci certo gioco e sarebbe l'ideale gioco sarebbe l'ideale sarebbe meglio gioco di diego costa e diego costa un carattere non proprio facile e con l'armonia che si è vista nella prima partita di campionato ecco diego costa se sta bene un giocatore eccezionale secondo me è paragonabile come carattere a suare suare se meglio naturalmente è uno cattivo come suare anche se suare se molto meglio dal punto di vista tecnico più completo suare ecco diego costa è dato per partente ma diego costa se sta bene un anno bene te lo fa se fosse questo il pacco cioè il doppio pacco preso dalla juve in casa atletico ma però diego diego costa delle pesanti controindicazioni non è è uno un mezzo spacca spogliatoi è tipo come il redmundo nella fiorentina ma gli intrecci sono tanti 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 però dai fatto che arrivi morata eppure c'era qualcuno che l'aveva detto la juve prenderà il piglierà morata non ricordo chi ma qualcuno l'aveva detto e qual qualcuno ci ha azzeccato boh vedremo io torno a vedere il milan magari ne parleremo in maniera più approfondita di morata dell'attacco della juventus raga lasciate un like iscrivetevi al canale e ci sentiamo dopo per il commento di milan bologna e altro ciao 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 ciao